bene buongiorno a tutti eh anzi buon pomeriggio ormai eh benvenuti a questo webinar organizzato in collaborazione con PMP Paribas io sono Pierpaolo Scandurra e do naturalmente il mio benvenuto a Mara Luca Comunian ciao Luca buonasera Pierpaolo buonasera a tutti buonasera buonasera a te bene Luca allora appuntamento webinar con i certificati di PMP Paribas naturalmente andremo a parlare insomma di un bel po' di cose oggi ne abbiamo tante da raccontarci parleremo di novità ce n'è una eccola qui sta passando proprio in sovraimpressione in questo in questo banner sul sito ovvero i double maxi eh maxi cash collect quindi certificati che pagano premi eh importanti addirittura sono doppi e particolarmente utili per il recupero delle minusvalenze ma non confiniamoli solamente a questo in realtà vedremo che possono essere molto interessanti anche proprio in ottica di investimento grazie a questo meccanismo e parleremo naturalmente non solo di queste novità ma anche di altri certificati che abbiamo selezionato eh con il nostro ufficio studi pertanto andremo a vedere più nel dettaglio con il nostro eh un'analisi una selezione di certificati e anche di un'iniziativa importante che è quella della short list che è un'iniziativa che abbiamo ormai eh attivato da un bel po' di qualche settimana e che vi consente di ricevere un' indicazione da parte del nostro ufficio studi è un'iscrizione gratuita ma comunque anche di questo parleremo fra poco naturalmente oltre che ricordare che il webinar è in fase di registrazione e quindi sarà possibile anche rivederlo in un secondo momento vi ricordo la possibilità di interagire con noi quindi il pannello sulla destra del vostro monitor per fare domande sia io che Luca siamo assolutamente eh disponibili e pronti a rispondere a tutte le domande e quindi scrivete e cercheremo naturalmente anche di 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 farlo mi dicono che c'è l'audio mutuo ma non dovrebbe essere il mio quindi Lorenzo se hai qualche problema certo non mi senti eh quindi non probabilmente non puoi non puoi ascoltare ma mi sembra che funzioni tutto tu Luca mi senti io ti sento bene Pierpaolo sì benissimo credo anche gli altri altrimenti avrebbero già scritto anche gli altri sì infatti l'audio si sente bene pertanto credo che sia un problema isolato di Lorenzo che vorrei aiutare magari dopo eh gli scrivo io qualcosa prima di iniziare Luca un veloce commento a quello che è un po' il momento di fine giornata come sempre oggi giornata ehm disegno diciamo disegno positivo in particolare per il nostro indice che recupera terreno anche grazie al buon andamento del settore bancario ma non solo oggi un po' tutti i titoli hanno ripreso vigore e ci sono state delle buone storie anche vedo ad esempio Tenaris più due virgola otto Saipem più un e settanta in scia ad una ripresa del prezzo del petrolio anche se è una dinamica che abbiamo visto più in principalmente concentrata sul nostro mercato eh come dicevamo rialzi anche il settore bancario ma buona eh buon andamento per Leonardo che sta beneficiando di una eh di una buona notizia eh che è arrivata e che ha toccato in particolare il titolo Airbus quindi Airbus ha aumentato la produzione sono in arrivo ordini di aeromobili quindi si si pensa insomma si prevede che possa ripartire un po' l'attività e pertanto Airbus ha guadagnato oggi il nove e ventidue per cento e si è letteralmente tirata dietro anche Leonardo che questa mattina era invece tranquilla insomma intorno alla parità e poi nel corso della giornata gli acquisti si sono concentrati anche sul titolo Leonardo altre storie vedo una chiusura di Fiat quindi Stellantis a più quattro e zero nove quindi tutto tra l'altro nella parte finale della giornata se non sbaglio non l'avevo vista così così in buona forma si saliva ma non così tanto insomma queste un po' le storie negli Stati Uniti viceversa giornata molto più tranquilla eh Nasdaq meno zero zero nove per cento quindi praticamente flat eh gli indici americani invece industriali sono un pochino più tonici perché oggi è arrivata la notizia che Biden avrebbe diciamo lanciato l'idea di un piano eh di sei trilioni di dollari a favore in particolare delle infrastrutture quindi un po' tutti i titoli del settore costruzioni sono sono pronti per beneficiare di questa di questo nuovo budget e quindi oggi gli industriali vanno effettivamente meglio rispetto ai tecnologici insomma queste sono un po' le storie di giornata volatilità ancora molto tranquilla in area diciotto per cento quindi non si è mossa anzi eh addirittura in contrazione questo è ciò che è un po' il contesto di mercato a questo punto tornando a noi Luca direi che possiamo iniziare a parlare dei certificati e lo facciamo ti assegno il controllo del monitor così possiamo andare a vedere la prima novità mh questa eh che praticamente avete votato in questi giorni parliamo dei double maxi cash collect quindi quattro eh quattro nomi all'interno di questa definizione commerciale di questa struttura che andandoli ad analizzare proprio come stai facendo adesso ci stai facendo vedere ci danno l'idea un po' di quello che si riesce a fare con questa struttura sì grazie per Paolo e buonasera a tutti di nuovo e e grazie anche perché diciamo noi l'abbiamo abbiamo lanciato questa nuova gamma venerdì eh quotati su Borsa Italiana a venerdì scorso quindi sono i primi giorni eh di vita e di fatto c'è la la novità principale nel mondo diciamo questa 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 slide mostra un po' quali sono le possibili soluzioni di cash collect che la nostra gamma ehm offre ovviamente partendo dal più semplice andando poi a trovare quelli con caratteristiche che premiano di più rendimento piuttosto che eh con caratteristiche più difensive vede vede gli airbag ehm tra tutte queste soluzioni diciamo già esistenti abbiamo puntato su una soluzione che sicuramente guarda al rendimento anche se poi le barriere andiamo a vedere sono eh decisamente contenute e eh l'abbiamo un po' eh non voglio dire migliorata però abbiamo creato abbiamo dato un elemento eh di novità ovvero quella di anziché come già avevamo emesso precedentemente avere un maxi premio iniziale eh questa struttura e questi nuovi prodotti hanno due eh maxi premi iniziali in particolare il primo pagato eh dopo tre mesi e lo stesso o dello stesso montare maxi premio anche pagato al sesto mese data nella quale potrà esserci anche la scadenza anticipata parliamo di quattordici eh prodotti quattordici certificati quotati di nuovo su borsa italiana e l'altra grande novità è soprattutto in realtà per per BNP Paribas diciamo è l'inserimento di azioni azioni americane dove eh con tutta onestà diciamo la nostra gamma ehm era un po' carente al momento però direi fino ad oggi perché appunto abbiamo introdotto anche ora azioni americane e sicuramente nei prossimi mesi l'obiettivo sarà quello di sviluppare ulteriormente la gamma anche su eh questo segmento di mercato o meglio su questo mercato che è sicuramente di interesse principale per tutti gli investitori visti insomma eh sia le performance ma anche eh le società che ci sono quotate molte ovviamente sulla parte anche del Nasdaq quindi nel mondo della della tecnologia e quindi è sicuramente un mercato interessante che vorremmo sempre di più eh coprire con i nostri prodotti anche perché ricordo poi questo di fatto eh questi certificati danno esposizione a questi sottostanti ma sono quotati intanto sul mercato italiano sono denominati in euro e poi sono cosiddetti quanto e quindi eh non eh non espongono l'investitore al rischio ehm diciamo di valuta tra cambio euro dollaro e quindi ovviamente sono anche un investimento comodo in valuta tra virgolette passatemi il termine comodo ehm ma andando più nello specifico e andando a vedere quali sono i eh i le caratteristiche principali abbiamo detto quindi double maxi cash collect a seconda del del prodotto che si sceglie tra i quattordici emessi i due maxi premi possono essere dal 6,5 per cento fino ad arrivare a quelli che hanno il maxi premio più generoso eh dell'undici per cento quindi in questo caso partendo dalla banda più eh bassa due premi da 6,5 il primo trimestre e il secondo trimestre arrivando poi invece a quello più generoso che sono due maxi premi eh dell'undici per cento ehm dopo questi due maxi premi invece i premi saranno del uno fino ad arrivare al due per cento anche qui per quello più generoso quindi due maxi premi e poi una struttura cedolare trimestrale che prevede dei premi eh tra l'uno e il due per cento questo eh nel caso ovviamente i prodotti non non scadono anticipatamente al secondo trimestre ma ora ci arriviamo eh ritornando al discorso premi c'è anche l'effetto memoria quindi l'effetto memoria che si applica anche sui maxi quindi solito ragionamento eh i premi sono condizionati al fatto che eh il sottostante qui parliamo sempre di panieri di due tre o quattro azioni il sottostante peggiore non sia al di sotto del livello della della barriera a ogni valutazione trimestrale e in questo caso i premi vengono corrisposti se così non fosse perché eh si trova il sottostante si trova al di sotto della barriera eh il abbiamo l'effetto memoria l'effetto memoria che si che si applica anche nei nei maxi premi questo significa che abbiamo anche una slide dedicata poi ve la mostrerò nonostante diciamo ci sia queste queste valutazioni al di sotto della barriera nel trimestre in cui eh si dovesse verificare che il sottostante sia al di sopra andremo a recuperare anche tutti i premi non ricevuti precedentemente e guarda Luca scusami se ti interrompo guarda mh ci ci riflettevo qualche giorno fa osservando un po' i va i maxi coupon che ci sono in circolazione e credo che questo momento storico eh richieda l'utilizzo ancora più frequente di titoli ad alta volatilità perché nel momento in cui abbiamo un mercato con una volatilità bassa ma soprattutto anche una dinamica sui dividendi che è decisamente cambiata rispetto a due anni fa cioè due anni fa potevi fare un bel prodotto mettendo dentro Eni, Intesa, San Paolo ti pagavano comunque bei dividendi e e e avevi comunque la possibilità di costruire delle belle strutture oggi la questione mi sembra che sia decisamente cambiata lo spieghiamo anche un po' così approfitto di questa tua analisi per raccontare anche questo aspetto oggi la questione è cambiata perché ci sono alcuni titoli che pagano dividendi decisamente più bassi ma da quello che è il nostro punto di osservazione credo che proprio in fase di strutturazione ci sia molta più prudenza nel prezzare i dividendi stimati perché l'esperienza del 2020 è stata un'esperienza pesante per per chi struttura i prodotti spieghiamo semplicemente insomma si fa fronte si fa conto su un dividendo e poi alla fine non è arrivato e quindi ehm tutto questo per dire che l'utilizzo di sottostanti più volatili si rende necessario per cercare di costruire strutture come queste non è un caso infatti faccio un po' uno spoiler ma lo vediamo meglio dopo Luca non è un caso che oggi ci debbano essere all'interno dei sottostanti dei basket di questi certificati titoli decisamente più volatili come possono essere ai ciwi eh che è la Netflix cinese piuttosto che Zoom video o ancora Virgin Galactic questo da una parte però eh può comportare un rischio ovvero che in quel trimestre di emissione questi titoli veramente possono anche perdere il quaranta per cento cioè mentre è una cosa ben più rara che appenga su titoli più solidi eh più stabili con minore volatilità su questi titoli invece può capitare e l'ho visto succedere per altre emissioni queste sono appena partite quindi ho visto in altre emissioni che nel giro di una settimana due settimane i titoli abbiano perso il venticinque trenta per cento ecco è importante quindi che l'effetto memoria ci sia anche sul maxi premio perché altrimenti uno compra un certificato puntando sull'incasso del maxi premio poi il titolo perde il quaranta per cento per una serie di motivi legati anche magari a una trimestrale eh particolarmente negativa perdi il maxi premio e perdi il motivo principale per cui l'avevi comprato viceversa con l'effetto memoria lo puoi recuperare dopo quindi l'ho voluto sottolineare Luca perché perché non sempre almeno in passato ho visto delle emissioni non parlo di PNP Paribas parlo in generale non sempre l'effetto memoria era anche sul maxi premio iniziale cioè c'era sui maxi premi successivi ma non per forza su quello iniziale e questo invece è una prerogativa che a mio avviso è fondamentale nella scelta scusami ma ti interrotto ma grazie per averlo sottolineato perché non ti nascondo che è stato anche una cosa che abbiamo voluto e su cui abbiamo lavorato perché come puoi immaginare avere l'effetto memoria su dei maxi premi anche di questo di questo importo ovviamente è una caratteristica che comporta un costo sul prodotto e quindi ovviamente insieme alla nostra strutturazione abbiamo lavorato molto per renderlo efficiente a livello finanziario e proporlo ovviamente ai clienti per cui grazie anche per averlo sottolineato andando avanti nella nella struttura dei prodotti quindi abbiamo barriere che possono andare da 50 a 60 per cento dico tra 50 60 perché dipende anche qui dal prodotto specifico abbiamo alcuni prodotti con barriera 50 altri 55 altri ancora 60 poi andiamo a vederlo nel dettaglio per quanto riguarda la scadenza è una scadenza a tre anni e per il resto di fatto si comportano come dei normali cash collect quindi abbiamo anche altra cosa importante la caratteristica di scadenza anticipata quindi al sesto mese dopo il diciamo alla data del secondo maxi premio quindi secondo trimestre oltre a pagare il maxi premio qualora tutti i sottostanti siano anche al di sopra del loro valore iniziale il prodotto paga il maxi premio e in più rimborsa anticipatamente il valore nominale di 100 euro per ogni certificato posseduto anche qui poi magari possiamo fare un approfondimento perché ovviamente questa seconda data si trova a novembre di quest'anno e quindi anche sempre in un'ottica minusvalenza può essere interessante perché anche chi ha compensazione delle minus a conclusione dell'investimento avendo la possibilità di scadere anticipatamente appunto entro l'anno può essere un valore. Scadenza anticipata dicevamo se tutti i titoli sono sopra il valore iniziale che dal sesto mese in poi vale per tutti i trimestri successivi quindi può scadere sia a novembre appunto ma poi anche durante tutte le altre date di valutazione. Se questo non avvenisse arriviamo a scadenza e la scadenza funziona come un normale cash collect quindi tutti i sottostanti sono almeno pari alla barriera o sopra la barriera abbiamo protezione del valore nominale più l'ultimo premio in programma a meno che non ci sia l'effetto memoria quindi qualora ci fosse avremo anche tutti i premi non ancora pagati oppure scenario negativo nel caso il sottostante peggiore sia al di sotto del livello barriera in questo caso abbiamo una perdita sul valore nominale che è commisurata alla performance del sottostante del sottostante peggiore per andare più nello specifico poi quindi andiamo a vedere questi prodotti abbiamo detto sono 14 i primi che vi mostro sono quelli sui sottostanti americani quindi potete vedere qui abbiamo dei basket sostanzialmente di 3 4 azioni tranne l'ultimo che di due azioni e i settori sono un po abbiamo cercato di fare dei basket settoriali o comunque che avessero un interesse comune ad esempio il primo vediamo nio tesla ford motor sulla parte ovviamente di veicoli sostenibili con ford che ovviamente non lo è tanto quanto magari nio tesla per la nascita dell'azienda ford ma che sta puntando sicuramente in questa direzione si tra l'altro proprio ieri luca è arrivata arrivata ieri proprio la notizia no di ford che investe 30 miliardi di dollari sull'elettrico e quindi cioè vorrà investire nei prossimi anni 30 miliardi di dollari nell'elettrico intanto è vero che il titolo ford ieri ha fatto più 8 per cento oggi ha allungato il rialzo più 4 per cento quindi sì il tema è anche quello effettivamente eh sì è chiaro che nio e tesla nascono come idee che puntano alla sostenibilità eh alla sostenibilità insomma della mobilità eh ford invece nasce ben prima e ha ben altri concetti eh di di auto autoveicolo ma ovviamente è un'azienda che si sta muovendo in questa direzione in questo caso abbiamo barriera al cinquantacinque per cento eh doppio maxi premio di nove e mezzo e i premi successivi all'1,5 eh abbiamo poi un altro basket che guarda le energie sostenibili quindi plug power in phase energy e solar edge technologies eh qui abbiamo un addirittura una barriera al 50 e il doppio maxi premio all'11 con il premio con i premi successivi all'1,80 è chiaro che qui mi ricollega un po' a quello che dicevi tu eh Pierpaolo eh abbiamo una barriera più profonda un premio più alto proprio perché entriamo nel campo della volatilità questi sono sottostanti che sicuramente godono di 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 tanta volatilità eh plug power soprattutto mi faccio un focus su questo ha avuto eh dei massimi intorno ai 40 dollari poi è tornata eh è tornata giù quasi ai minimi un mese un mese degli ultimi dell'ultimo anno eh nelle recenti eh settimane la cosa positiva qui è che siamo riusciti a fare una barriera al 50 per cento di un valore che sicuramente è al minimo degli ultimi mesi e quindi rappresenta una barriera molto molto profonda rispetto diciamo a quelli che sono state le quotazioni medie di plug power negli ultimi negli ultimi mesi interessante poi anche l'altro il terzo dove abbiamo invece giocato sul tema vaccini moderna Pfizer Johnson & Johnson and BioNTech eh vaccini e comunque diciamo ricerca scientifica eh dove qui un settore ovviamente che eh gode di meno volatilità e quindi abbiamo una barriera da 60 eh doppio premio del sette e premi successivi eh dell'un per cento ciò nonostante comunque se consideriamo che eh può pagare due eh maxi premi nel primo anno parliamo di un rendimento il primo anno del quattordici per cento e poi del eh quattro per cento nei negli anni successivi quindi quattordici più quattro per due anni eh andiamo ad otto sarebbe un ventidue per cento complessivo in in tre anni senza contare che però può ovviamente anche scadere anticipatamente aumentando quello che è il il suo rendimento eh poi andiamo su eh twitter i ciui eh e zoom quindi ci spostiamo un po' qui non ci sono solo tre azioni americane in realtà sono due americane e una come diceva anche prima per Paolo eh cinese che però guardano un po' a quello che è l'ambito social che eh riguarda eh le telecomunicazioni virtuali e quello che riguarda lo streaming video eh anche qui eh barriera cinquantacinque e doppio maxipremio del nove nove virgola cinque eh l'altro basket Zalando Farf Tech e Shopify ovviamente qui si guarda alla ripresa dei consumi a quello che è l'online shopping e eh anche qui riusciamo ad avere un doppio maxipremio dell'otto virgola cinque con una barriera del cinquantacinque e infine un 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 prodotto eh se vogliamo anche abbastanza eh meno visto diciamo meno visto in termini di sottostanti perché qui guardiamo a quello che è eh l'aerospace la produzione di di componenti o comunque di ehm di obiettivi no aziendali di eh creare eh missioni eh nello spazio o comunque eh mezzi che possono andare nello spazio eh con Virgin Galactic e Thales che è Thales è un'azienda francese anche qui eh importante la volatilità quindi questo è il prodotto che ha più rendimento all'interno della della serie perché vediamo barriera al cinquanta doppio maxipremio dell'undici ma anche il premio successivo è del due per cento quindi ecco sicuramente un prodotto in grado di esprimere tanta tanto rendimento parla parlando quindi commentando il fatto che questo è il più eh diciamo potenzialmente generoso almeno potenzialmente generoso sulla carta tra tutti eh possiamo chiarire per Anna Maria eh le due dice non mi è chiaro il meccanismo della doppia cedola probabilmente se vogliamo chiarire ancora una volta Luca molto brevemente un po' il meccanismo quindi i primi premi e poi i successivi è molto eh semplice se guardiamo questa linea del tempo possiamo immaginare oggi di essere qui diciamo la data di emissione o comunque ai primi giorni di emissione eh il primo trimestre ci sarà eh la prima data di valutazione nel caso specifico sarà ad agosto in questa data in base al certificato scelto se tutti i sottostanti saranno almeno pari alla barriera o sopra la barriera il prodotto staccherà il primo maxi premio come abbiamo visto il maxi premio potrebbe essere del sei e mezzo o dell'undici a seconda del certificato che si sceglie e questo avviene ad ad agosto l'altra cosa che potrebbe succedere ad agosto è che ci siano sottostante al di sotto della barriera in questo caso non succede nulla non viene pagato nessun premio ma si attiva l'effetto memoria si va poi al secondo mi fermo subito Luca perché lo sai insomma io non ti faccio leggo le domande approfitto perché anche questa era un'altra domanda questa primo premio così come eventualmente anche il secondo cioè la memoria sul primo vale per tutta la durata del prodotto sì assolutamente quindi ipotizziamo che alla prima data un titolo sia crollato poi tu ritorna sopra dopo un anno riprendi tutti i premi inclusi maxi ti faccio l'esempio più estremo Pierpaolo un prodotto potrebbe arrivare alla scadenza quindi dopo tre anni e non aver mai pagato un premio perché è sempre stato sotto la barriera in tutte le date quindi mai ricevuto un premio a scadenza essere al di sopra della barriera e quindi pagare tutti i premi non pagati durante i tre anni quindi questo è l'esempio più estremo però sì l'effetto memoria si attiva e vale fino a scadenza potremmo addirittura arrivare a scadenza e ricevere tutti i premi mai presi dall'emissione fino alla scadenza perfetto quindi questo era per Franco che lo aveva chiesto prima quindi i primi due eh tornando alla tabella di dopo così eh poi andiamo avanti che io vedo il l'orologio che già scorre quindi prima colonna è il doppio maxi premio poi arrivano i premi trimestrali che sono più piccoli ma comunque portano sempre tra un quattro e un e un otto per cento annualizzato detto ciò fra poco vi farò vedere adesso appena avremo terminato la il racconto della seconda parte quindi con i titoli non americani vi farò vedere la situazione ad oggi perché questo è all'emissione poi adesso i titoli si sono mossi alcuni più alcuni meno comprandoli ai brazzi di chiusura di oggi qual è il rendimento che si può ottenere alla scadenza da ciascuno quindi vi farò vedere fra poco dalla nostra piattaforma quindi intanto vediamo gli altri quindi capito il meccanismo anche per rispondere poi a quella domanda per paolo quindi poi passato il primo trimestre andiamo a novembre quindi novembre secondo trimestre in quel caso lo schema è lo stesso almeno meglio scusate tutti i sottostanti sono al di sopra della barriera secondo maxi premio secondo maxi premio oppure tutti i sottostanti sono anche al di sopra del loro valore iniziale secondo maxi premio restituzione del valore nominale e estinzione anticipata del certificato ultimo caso tutti i sottostanti o almeno uno è al di sotto della barriera si prosegue trimestre successivo e ci ricordiamo immaginiamo che nessuno dei due maxi premio è stato pagato perché è andato particolarmente di sfortuna e abbiamo avuto al primo trimestre al secondo trimestre un sottostante sotto la barriera avremo in memoria i due maxi premi ciò vuol dire che poi al trimestre successivo se si verifica la condizione di avere tutti i sottostanti al di sopra della barriera avremo maxi premio 1 maxi premio 2 più premio del trimestre terzo che sarà più basso quindi sarà il premio normale che può essere dall'1 al 2 per cento come abbiamo visto prima bene vediamo adesso invece possiamo anche parlarne insomma no 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 il nostro spettatore eventualmente a scriverci o a chiamarci così possiamo spiegarglielo anche più approfonditamente andando avanti qui vado un po più veloce per parlo così poi ti lascio spazio anche perché sono sottostanti più conosciuti abbiamo un prodotto che è su Varta Renault Stellantis anche qui abbiamo 55 per cento di barriera maxi premio del doppio maxi premio del 9 e un altro sempre un po legato al mondo automotive con Valeo Pirelli Renault con un premio un po più basso del 6 e mezzo questo è perché nel primo Varta che poi è anche un produttore soprattutto di batterie di energia per automotive in particolare si sta espandendo molto in questo settore porta volatilità è un sottostante più volatile e quindi nel primo caso riusciamo a pagare un doppio maxi del 9 contro il secondo che invece paga un 6 e mezzo poi ne abbiamo due sul settore airlines il primo con Air France e International Consolidated Airlines e Easyjet per capirci il secondo International Consolidated Airlines è il gruppo di British Airways e Iberia che magari il nome della stock non è molto conosciuto ma poi le compagniere lo sono molto in realtà e il secondo invece con Lufthansa Airbus Air France di nuovo e Safran che ha un premio del 7.5 benissimo quando viene pagata la maxi cedola cosa succede alla quotazione del certificato Luca alla quotazione del certificato allora la dinamica del diciamo del prezzo del certificato è quella di nel momento in cui ci avviciniamo alla alla valutazione del dove si valuta appunto se il maxi premio viene pagato o meno qualora appunto sia probabile che venga pagato si avvicinerà a quello che è diciamo il valore del maxi premio quindi immaginiamoci un maxi premio del 10 il certificato tenderà a tende diciamo ad arrivare a un prezzo vicino a 110 non arriva mai a 110 perché ovviamente c'è un minimo di probabilità che non lo possa pagare e comunque perché nel primo trimestre non scade in anticipo quindi sappiamo che andrà alla seconda valutazione nel momento in cui stacca il maxi premio il prezzo viene diminuito esattamente del premio del premio staccato e a quel punto inizierà a quotare diciamo senza senza questo premio mediamente possiamo pensare che il prodotto immaginiamoci sempre un maxi premio del 10 per cento possiamo immaginare a il prodotto che arriva intorno a 105 106 quando stacca stacca il premio appunto di 10 quindi si troverà a 95 e a quel punto poi in realtà la dinamica se sempre i sottostanti lo permettono e quindi sarà probabile anche il secondo maxi premio o addirittura sarà probabile la scadenza anticipata in realtà da quel 95 che si 90 95 a seconda del maxi premio che si troverà che si troverà a quotare dovrà recuperare velocemente perché poi in tre mesi ci sarebbe la possibilità di avere un altro maxi premio o addirittura di scadere anticipatamente qualora ci sia la possibilità di scadere anticipatamente ovviamente il prezzo tenderà a crescere velocemente proprio per andare a riflettere quello che è il valore finale di rimborso il valore finale finale di rimborso intendo la scadenza anticipata quindi 100 più il secondo maxi premio esatto quindi ovviamente spengo un attimo gli entusiasmi sul fatto che da 100 necessariamente vada a 110 Luca l'ha detto ma chiariamolo a condizione che i sottostanti rimangano fermi o che magari salgano altrimenti no perché questa era una cosa che avevo letto un paio di volte su qualche forum se il certificato deve pagare una maxi cedola del 10 per cento lo compro a cento perché tanto sale a 110 non sempre così perché se i sottostanti poi scendono rispetto all'emissione naturalmente non va a 110 magari scende però la cedola la stacca lo stesso e quindi quindi perde esattamente l'importo della cedola pertanto Francesco naturalmente non lo puoi considerare un reale guadagno in quel momento viene pagata una cedola dopodiché il guadagno si materializzerà nel momento in cui riuscirai a vendere a un prezzo superiore il vantaggio di riuscire ad intascare immediatamente la maxi cedola è perché così puoi utilizzarla per la compensazione delle minusvalenze curiosità di Simone ma a questo punto anche la mia ti dico Luca l'avrei letta probabilmente questo asterisco vicino ai codici Aisin degli ultimi tre prodotti riporta ottima domanda no questo se guardiamo la nostra brochure magari lo faccio vedere per così da fugare qualsiasi dubbio questo è un asterisco perché la tabella è presa dalla nostra brochure semplicemente e nella nostra brochure l'asterisco è riportato poi a fondo pagina lo mostro così lo guardiamo insieme per dire che il certificate è dotato di opzione quanto che lo rende immune dall'oscillazione del cambio tra euro e la valuta del sottostante quindi è solo perché ho fatto un copia e incolla di questa tabella qui dove ci sono gli asterischi che poi riporta il fatto che il prodotto è quanto e quindi non soggetto al rischio cambio tutto che utile alla fine no dai da una da una così una sottile sottigliezza poi alla fine è venuta fuori comunque un'informazione no giustamente perché vederlo così in effetti uno può giustamente pensare esatto è incuriosito anche me infatti ho detto però non gli avevo dato importanza però effettivamente così abbiamo potuto chiarire anche questo va bene Luca allora a questo punto io mi prenderei il controllo del monitor iniziamo a dare un'occhiata un po' un po' più nel nel dettaglio a quella che è la situazione attuale no perché in questa conferma se ti interrompo per dire che non li commentiamo così andiamo più veloci visto le tempistiche però questa è la seconda slide sui sottostanti europei dove abbiamo ulteriori quattro prodotti con altri quattro basket con doppi maxi premio tutti dell'otto ma che dove i sottostanti sono uno su basket del fuzzi mib un altro che guarda un po' più al diciamo la ripresa economica con assalormittal glencore basf tenaris quindi un po' la parte industriale dell'economia e poi uno che guarda ancora all'online shopping piuttosto che a quello che è il retailer settore retailer quindi degli acquisti e la ripresa dei consumi e poi e poi un telefonico sulla ripresa dei consumi interessante perché vedevo una statistica proprio prima online su UK quindi su il Regno Unito dove diciamo sono un po' più avanti di noi sulla ripresa della normalità della vita normale di fatto c'era un po' il tema sulla parte di saving quindi dei risparmi fatti durante la pandemia e ci chiedeva se questi risparmi rimarranno intatti ovvero riprenderemo la nostra vita e continueremo a spendere quello che spenderemmo prima e quindi di fatto quelli là rimarranno là e saranno un bottino che abbiamo risparmiato durante il periodo di lockdown oppure se in realtà la nostra voglia di tornare alla normalità ci porterà dei livelli di consumi maggiori rispetto a prima e le prime statistiche nel Regno Unito proprio facevano vedere come il ritorno alla normalità supera la domanda quindi di beni, di servizi, di acquisti supera quelli che erano i livelli medi pre crisi e quindi era uno spunto interessante appunto sul settore retailers dove appunto ci si aspetta un effetto importante sul tema consumi l'ultimo l'ultimo basket invece è un basket dove vediamo anche Xiaomi oltre altre azioni telecom Vodafone e telefonica e che guarda ovviamente alle telecom, settore telecom. Ok, sì sì no ma diciamo che mi ero preso il monitor perché tanto li avremmo visti poi di qua ma hai fatto bene a spiegarli. Allora mi confermi che si vede o meglio che si riesca a leggere altrimenti ingrandisco un po' di più. Comunque tu vedi Luca? Allora vediamo, sì eccoci. Ok, allora siamo all'interno, ingrandisco un po' ecco forse così decisamente meglio probabilmente. È che si perde un pochino la navigazione e per questo eh provo allora a fare un magari un passo indietro così riesco a far vedere tutto. Dunque questi sono i quattordici certificati di cui abbiamo appena parlato adesso volevo entrare un po' più a vederne un paio almeno e partendo da un paio di considerazioni eh analitiche. Innanzitutto qui vedete abbiamo l'effettivo worst off in questo momento in questa colonna dove vediamo sottostante questa qui è la colonna dei dei worst off di questo momento cioè i titoli più deboli quindi ad esempio nel basket Ford Nio Tesla abbiamo Tesla che è in questo momento il più debole come abbiamo detto Ford è salita molto in questi due giorni Nio sta comunque sopraver formando nel basket con ai ciui abbiamo ai ciui che appunto è il titolo più debole e così via quindi qui è possibile vedere ad esempio i titoli che stanno comandando rispetto agli altri volevo però piuttosto eh dare un'occhiata a un paio di eh di analisi la prima è il buffer barriera cioè vuol dire quanto in questo momento rispetto alle barriere valide sia per la cedola che per il capitale questi certificati sono distanti quindi ad esempio il primo su Tesla Ford Nio il quarantanove per cento di distanza dalla barriera per il titolo peggiore e quindi è comunque rimasta praticamente immutata la distanza alla barriera ehm nonostante Tesla sia il peggiore ma è comunque più o meno sullo strike iniziale il farmaceutico o meglio quello legato al tema dei vaccini ha una distanza un po' più bassa trentotto per cento e così a scendere qui possiamo vedere le varie distanze ma ancora di più i prezzi parliamo dei prezzi sono tutti abbastanza saliti infatti quanto Luca ci diceva prima a proposito del fatto tenderanno a convergere verso la maxi cedola qui complice una volatilità bassa i titoli in rialzo sono già tutti un po' saliti quindi abbiamo eh ad esempio il primo che è addirittura cento otto virgola quarantacinque nonostante Tesla sia ancora sotto poco sotto strike è già a cento otto virgola quarantacinque quindi vuol dire che rispetto a quello che è la cedola del nove e cinquanta che è la prima cedola che verrà pagata ad agosto è un po' come se già ce la ce la stessimo pagando tuttavia questo interrompo perché è vero che Tesla è worst off ma è worst off pur avendo guadagnato terreno perché lo strike di Tesla è a 577 quindi 577 dollari circa mentre ora la vedo live quota sui 620 quindi è vero è vero no ma infatti è vero il fatto che sta salendo nonostante Tesla sia il più debole ma è più debole ma in positivo giustissimo Luca hai fatto bene è un po' un paradosso è la più debole però di tre sottostanti che stanno performando che stanno andando tutti bene sì Tesla ha fatto un più sette da strike e quindi gli altri ancora di più giustissimo è comunque quello che volevo evidenziare anche nell'ottica perché c'è una considerazione ad esempio di Giovanni che dice sì ok le maxi cedole ma poi diventano dei premi un po' più bassi va bene ci sta ma quello che conta alla fine cos'è e qui vado ad ingrandire tanto siamo arrivati sulla colonna che mi interessava ho fatto tutto questo ragionamento ma volevo farvi vedere questa la colonna del rendimento annualizzato adesso cioè nel senso se io lo compro oggi oltre al discorso di incassare le maxi cedole quanto guadagno tenendolo eventualmente fino alla scadenza dopodiché si è rimborsa prima il certificato su Tesla Ford e Nioh comunque dà un rendimento annualizzato del 10,3% dopodiché può darsi che non ci arriviamo alla scadenza perché rimborsa prima visto che i titoli come ci diceva Luca sono già tutti positivi ma comunque è un certificato che paga il 10,3% all'anno il secondo ai ciui fa il 9,66% e come si calcola questo è la somma dei primi due maxi premi più tutti i premi trimestrali un po' più bassi quindi è vero che dopo pagano di meno ma tu comunque i maxi premi li incassi e quindi il rendimento che vai ad ottenere alla fine del triennio se non ha mai rimborsato a parità di sottostante rispetto ad oggi è del 10,3% su Tesla del 9,66% qui dell'8,58% su Zalando 7,68% sul eh sul sul tema dei vaccini e ancora scendendo abbiamo un dodici e trentacinque per quello su Black Power e dodici e settanta su sul tema aerospaziale Thales e Virgin Galactic poi otto e sessantaquattro per Air France otto e trentaquattro per Lufthansa e così via scendere sono un po' meno generosi gli altri ma come vedete sono comunque premi importanti su base annua ma con barriere che sono tra il cinquanta e sessanta per cento non dimentichiamolo cioè e qui vado voglio fare quest'altra considerazione spesso diciamo che i premi i maxi premi che vengono pagati sono utili per la compensazione delle minus poi i certificati si impoveriscono ed è vero lo abbiamo visto con i premi che diventano più bassi quello che dobbiamo fare è fare un'analisi del rendimento annualizzato quindi quanto vado ad incassare alla scadenza se io compro un certificato prendiamo proprio questo su anzi andiamo sulle sulle aereolinee no quindi prendo ad esempio questo su Air France così guardiamo direttamente uno cioè se io lo compro oggi a novantotto virgola ottanta euro questo è un certificato che ha Air France EasyJet e quella gruppo che eh dell'International Consolidated Airlines qui abbiamo proprio l'ultimo titolo in guadagno del tre ventitré gli altri due leggermente sotto strike Air France perde il tre e trentatré abbiamo già detto i premi dell'otto per cento la prima e dell'otto per cento la seconda e poi diventano dell'un per cento e quindi in linea con quanto diceva Giovanni magari diventano più bassi va bene ci sta ma la barriera per il capitale per i premi è al sessanta per cento quindi comprandolo oggi a novantotto e ottanta non lo pensiamo solo per il recupero delle minus cioè diventa uno strumento in grado di darci un ventotto per cento a tre anni fino a meno trentotto per cento del titolo peggiore e l'altro aspetto importante anche su questo certificato è che come vedete a fronte di un meno trentotto io perderei il trentanove quindi non c'è neanche il premio sulla lineare quindi è questo che a mio avviso va sottolineato il fatto che è vero che sono dei dei maxi premio ma dopo diventano certificati che comunque hanno una barriera molto bassa anche per il capitale e riescono a dare dei rendimenti annualizzati comunque interessanti questo Luca è una insomma sembra una sfumatura ma non non lo è perché ci sono in circolazione li racconto anche io quindi non è che dico che questo è migliore di altri sono finalità diverse ci sono in circolazione prodotti e pagano premi del quindici venti trenta per cento subito ma poi dopo effettivamente hanno la barriera al settanta per cento e il rendimento annualizzato tende a scendere perché perché spremono tutto il rendimento all'inizio e dopo inevitabilmente diventano più poveri qui invece con il meccanismo di spalmarla su due su due date trimestrali il prodotto rimane interessante rimane valido e quindi questa era a mio secondo me una considerazione che era opportuno fare quindi questo sugli airlines hai detto c'è un basket ad esempio italiano più più legato al settore italiano diamogli un'occhiata per rimanere un po in casa qui abbiamo un prezzo di cento due euro oggi in lettera i sottostanti sono unicredit telecom pirelli e stellantis tutti e quattro verdi di poco ma comunque tutti e quattro verdi cedole in questo caso dell'otto per cento e successiva dell'un per cento quindi un rendimento comunque che annualizzato rispetto al prezzo di acquisto è del cliente di quasi il nove per cento su quello che andiamo ad acquistare e qui abbiamo una barriera fino a meno quaranta per cento in questo momento dal peggiore dei sottostanti che come abbiamo detto è nel caso specifico il titolo unicredit quindi ecco Luca un po' questa è la panoramica considerarli strumenti validi per il recupero delle minus hai detto una cosa che forse meritava un po' più di di eh di enfasi ovvero il fatto che abbiano questa data di rimborso anticipato già a novembre che è estremamente utile per chi ha la compensazione delle minusvalenze a chiusura cioè all'intermediario che compensa solo a chiusura e quindi questa è una delle altre scelte che io già ho avuto occasione anche lunedì la borsa indiretta di definire molto intelligente quindi la ribadisco anche oggi di mettere la prima data autocoll entro l'anno eh perché questa è una cosa che aiuta molto sia chi deve recuperare minus sia il prezzo del certificato perché se i titoli ad esempio in questa situazione se tutti e quattro i titoli immaginiamo per un'ipotesi rimanessero esattamente sui valori attuali a ottobre quindi settembre ottobre il certificato a quel punto da lì a un mese un mese e mezzo rimborserebbe cento otto euro quindi vorrebbe dire che dopo lo stacco della maxi cedula dell'otto per cento tenderebbe a risalire che è un po' quello che diceva Luca prima va bene allora mi sembra che non ci siano altre domande su questo tema come abbiamo dato abbiamo avuto modo insomma di vedere ci sono diverse idee interessanti da guardare sia per il maxi premio sia per considerarli insomma strumenti ecco quello forse un po' io ho più spinto l'abbiamo detto è questo su Thales e Virgin Galactic tra l'altro qui c'è da dire che è vero che centotto e sessantacinque ma abbiamo Virgin Galactic che avete fatto questo strike tre giorni prima che lanciassero il loro razzo e con esito positivo tant'è vero che praticamente si è trasformato quasi in un buono sottostante perché Virgin Galactic a più sessantadue rimasta Thales che è sullo strike iniziale quindi il prezzo a cento otto risente anche di questo però qui la cedula dell'undici per cento e allora una curiosità mia dal tuo file dello scenario dei rendimenti perché come sei tu avendo avuto questa performance qui Virgin alla fine è come avere non più un basket ma diciamo tra virgolette è su un mono sottostante si basa tutto molto su Thales quindi è vero che la lettera è alta però ero interessato a vedere l'analisi del scenario di rendimento. Sì e come vedi fa al trentadue per cento fino a meno cinquanta per cento poi naturalmente questi titoli così come fanno più sessanta possono benissimo riscendere detto che comunque Virgin Galactic adesso il razzo l'ha lanciato con esito positivo adesso non so che cosa possa succedere magari si rimangia parte del rialzo ma insomma non credo che lo cancelli del tutto ma poi da lì a un'ulteriore barriera almeno cinquanta quindi Virgin Galactic diciamo lasciamola un po' da parte per ora e rimane questa Thales ma comunque il certificato nonostante costi già cento otto e sessantacinque esprime sempre un rendimento annualizzato del dodici e settanta l'abbiamo visto prima quindi comunque eh è alto poi Massimo sì certo i razzi ormai è lanciato dovevano solo vedere se partiva poi può pure cadere dopo non serve più e no la domanda di di Massimo era più debole o più volatili il titolo peggiore inteso come performance peggiore rispetto agli altri quindi aveva fatto l'esempio su Tesla e quindi lo vado ad aprire e il così anche per confermare quanto correttamente ha detto Luca mio più undici Ford più ventitré Tesla più sette ottantanove è il peggiore ma in realtà guadagna quindi è il più debole non il più volatile eh si guarda proprio alla performance eh Luca io non so se c'è una domanda alla quale non so se tu sei in grado di rispondere da parte di Giovanni che riguarda che che era un po' quello che quando raccontavi delle sottostanti americane in qualche modo è venuto in mente anche a me quindi leggila e dopo naturalmente valuta se eh puoi dare una risposta e va bene allora a questo punto io approfitterei Luca se sei d'accordo visto che siamo andati un po' lunghi volevo vedere un po' di situazioni eh del nostro ufficio studi quindi seleziona dal nostro ufficio studi e in particolare vado vado avanti Luca o vuoi aggiungere qualcosa? No no prego per Paola. Ok allora abbiamo selezionato due tre strumenti che vorrei condividere con voi in questi dieci minuti finali allora partiamo dal primo è un cash collect maxi coupon dove in realtà può sembrare che la struttura sia similare a quella che abbiamo visto prima ma in realtà non lo è ma soprattutto è vero che un maxi coupon ma il maxipremio è stato già pagato quindi adesso siamo già nella seconda fase quella dove i premi sono dell'uno e cinquanta trimestrale quindi abbiamo un uno virgola cinque a trimestre che verrà pagato a fronte di una tenuta della barriera al sessanta per cento da parte del titolo peggiore possibilità rimborso anticipato con strike al cento per cento andiamo a vedere i sottostanti quattro titoli e anche qui devo dire Luca che la situazione si è abbastanza delineata ovvero è un basket nato con quattro titoli ma è come se fosse diventato quasi un mono sottostante Arcelor Mittal più ottantatre per cento STM più quarantatre per cento Nokia più venticinque per cento Tenaris meno cinque tra l'altro oggi Tenaris in buon rialzo del due virgola otto per cento quindi attualmente la situazione è Tenaris il più debole a meno cinque per cento certificato che in questo momento quota in chiusura novantaquattro e sessantacinque novantaquattro virgola sessantacinque facciamo un paio di di considerazioni Tenaris perde il cinque per cento se per la prossima data di osservazione che è quella del sei agosto riuscirà a recuperare lo strike iniziale che è il cento per cento il certificato andrà in rimborso a cento uno virgola cinque quindi cento più la cetola di uno virgola cinque in questo caso andando in rimborso a cento uno virgola cinque e comprandolo noi a novantaquattro e sessantacinque ci sarebbero quasi sette punti anzi diciamo sette punti percentuali da guadagnare sette punti percentuali da guadagnare nel momento in cui Tenaris recupera lo strike iniziale che è al cento per cento ok se questo non dovesse essere Tenaris naturalmente non recupera lo strike iniziale permetterà a quel punto il pagamento della cedola al sessanta per cento e se così andremo avanti arriveremo eventualmente fino alla scadenza alla scadenza questa è l'analisi di scenario sedici e settantacinque per cento di rendimento fino a meno trentasette per cento e diciamo una protezione che a questo punto agisce con praticamente un rendimento del sedici e settantacinque e rimborso lineare quindi il certificato che ha una doppia valenza anche perché la scadenza è breve novembre duemila ventidue quindi abbiamo un anno e sette mesi quindi sedici e settantacinque a un anno e sette mesi se non rimborsa mai ma in realtà può rimborsare già ad agosto quindi prima idea che a mio a nostro avviso per il nostro ufficio studi può essere preso in considerazione è questa quattro titoli tre estremamente positivi Tenaris l'unico un po' più debole meno cinque per cento questo è il codice Aisin lo vado ad evidenziare per chi fosse interessato lo vedete qui e potete naturalmente trascriverlo Luca vado un attimo più avanti poi magari parliamo anche dell'iniziativa perché c'era un altro certificato che volevo vedere che avevamo selezionato che mi era piaciuto molto e che è precisamente eccolo qui allora guardate anche questo insomma lo commentavo prima di iniziare insomma lo stavo guardando con i miei colleghi devo dire che è una bella situazione allora non è un caso è un caso che ci sia anche in questo caso Tenaris ma comunque certificato eh di tipo cash collect memory con eh trigger step down per il rimborso anticipato e cedola del tre virgola sei per cento a trimestre pagata in il caso in cui entrambi i titoli del basket sono due eh rilevino al settanta per cento dello strike iniziale allora vediamo la situazione sottostanti Tenaris ed STM quindi anche in questo caso abbiamo Tenaris Tenaris a meno zero cinque rispetto allo strike iniziale quindi è sullo strike STM invece a più dieci per cento ma attenzione abbiamo visto prima ma lo rivediamo il cinque agosto duemilaventuno il rimborso anticipato avverrà se il peggiore tra i due titoli sarà almeno al novanta per cento del livello iniziale non al cento per cento quindi in questo momento abbiamo STM in vantaggio di poco meno di venti punti rispetto a quel livello Tenaris di circa il dieci per cento quindi questo il certificato su Tenaris e su STM in questo momento sarebbe nelle condizioni di rimborsare anticipatamente e ad agosto rimborserebbe cento tre virgola sei euro ultimo prezzo lettera cento virgola quarantacinque quindi sono tre punti percentuali e tre virgola qualcosa tre virgola due se entrambi i titoli rimangono sui valori attuali o addirittura se scendono perché Tenaris può perdere anche il nove per cento e seppure non dovesse poi rimborsare questa è l'analisi di scenario 28 per cento di rendimento a scadenza fino a meno trenta scadenza naturale febbraio duemilaventitré devo dire questo Luca tra quelli che avevamo selezionato visto che insomma siamo andati un po' più lunghi questo forse è quello che secondo me troverà molti estimatori perché da qui ad agosto pagherebbe come abbiamo detto circa tre punti percentuali che in tre mesi scarsi sono due mesi neanche perché rimborso l'osservazione è a inizio agosto cinque agosto quindi è giugno luglio quindi due mesi e mezzo dai due mesi e mezzo per fare tre virgola due punti percentuali e in questo caso abbiamo un buon vantaggio per STM e un discreto vantaggio per Tenaris naturalmente faccio vedere gli ISIN doc qualche istante in più ci dicono che vado troppo rapido sugli ISIN quindi il certificato questo che abbiamo appena visto con due titoli eh Tenaris ed STM questo è il codice ISIN no NL zero zero quattordici zero nove due uno uno sei questa è una situazione questa è l'analisi del certificato naturalmente poi ciascuno valuti se è il caso di acquistarlo o meno in funzione di quelli che sono i propri obiettivi il secondo il precedente quello che invece aveva quattro titoli tutti molto positivi e solo uno che è leggermente negativo anche in questo caso però è Tenaris NL zero zero quattordici zero tre quattro due otto due queste sono due idee che si possono prendere in considerazione Luca eccoci sei perfetto allora a questo punto dimmi come vogliamo procedere potremmo far vedere eh l'iniziativa della shortlist in qualche minuto conclusivo oppure dimmi se vuoi eventualmente rispondere a qualche domanda o vuoi aggiungere tu qualcosa abbiamo ancora cinque minuti scarsi no io io vorrei vedere Pierpaolo se sei d'accordo il servizio shortlist che credo possa essere anche una una cosa per avere idee settimanalmente dal vostro ufficio studi quindi credo sia giusto che insomma per chi non lo conosce ancora che abbia l'opportunità di conoscerlo e poi se c'è qualche domanda in più da parte delle appunto di chi ci segue siamo qui apposta per rispondere volentieri va bene allora a questo punto parliamo del servizio shortlist io sono già entrato all'interno della sezione ma faccio una premessa questa è una delle pagine all'interno del sito di certificati e derivati è una pagina dedicata è una sezione dedicata a qui vedete che c'è un tasto che è iscrizione gratuita iscrizione gratuita a cosa a questo servizio shortlist che consente ogni due settimane di ricevere un segnale vero e proprio e adesso vi faccio vedere praticamente quasi in anteprima perché è arrivato non più di 40 minuti fa mentre eravamo in trasmissione e consente di ricevere un segnale su un certificato selezionato dal nostro ufficio studi quindi se chiaramente avete modo di partecipare ai webinar piuttosto che alla borsa in diretta del lunedì idee operative poi alla fine possono sempre arrivare ma questo è un metodo per essere sempre informati magari di quella idea che noi abbiamo selezionato attraverso l'offerta di bmpparipa quindi nel caso specifico è una mail quindi qui si fa l'iscrizione quindi molto banalmente cliccate inserite la la vostra email vi arriverà ogni due settimane questa mail è totalmente gratuito naturalmente ed è quindi un servizio di informazione su quello che può essere un prodotto da seguire nel caso specifico oggi abbiamo selezionato e raccontato un fix cash collector quindi qui trovate il codice ISIN con la relativa descrizione il segnale quindi la spiegazione del certificato e l'operatività cioè cosa secondo noi può essere interessante per questo certificato quindi perché può essere interessante acquistarlo ed eventualmente quali sono le caratteristiche non solo dove la barriera e dove è posizionato eventualmente rimborso anticipato qual è la cedola ma anche qual è la distanza quali sono le prospettive quindi questo è il segnale che arriva a questo punto visto che ci siamo io lo commenterei così in diretta facciamo un po' una cosa diversa dal solito andiamo a vedere assieme il segnale della shortlist che è arrivato appunto oggi pomeriggio si tratta di un fix cash collect quindi una struttura che già dal nome ci dà l'idea no quindi certificato che paga una cedola fissa quindi una cedola incondizionata questa cedola è del 2,9 per cento a trimestre pertanto siamo nell'ordine di quasi 12 punti percentuali annui è una cedola senza condizioni di 2,9 che viene pagata la prossima il 31 maggio ed è il motivo per cui abbiamo anche diciamo evidenziato il certificato perché comunque la cedola verrà pagata il 7 giugno ma ad esempio nel segnale vi dice anche entro quando comprarlo entro il primo giugno perché il 2 sarà la data di stacco anche se è festa vi ricordo che c'è borsa aperta quindi il 2 è la data di stacco il primo giugno è l'ultimo giorno utile per il per l'acquisto e ricevere questa cedola cedola di 2,9 euro poi il certificato naturalmente potrà andare avanti ma c'è questo meccanismo interessante dello step down sulle cedole quindi le cedole e sul rimborsa anticipato perdonatemi le cedole sono incondizionate quindi vuol dire che qualsiasi cosa accada tutto il flusso cedolare lo ricevi il rimborso anticipato può scattare a fronte di un meno 5 per cento sulla data di agosto meno 10 per cento su quelle di novembre e così via i sottostanti anche in questo caso settore eh airlines Air France e Lufthansa Lufthansa più 4 per cento Air France più debole meno 11 quindi non è diciamo probabile ma l'avevamo scritto anche nel segnale se andiamo a vedere lo abbiamo scritto qui ehm è diciamo tecnicamente meno probabile che si riesca a raggiungere il rimborso anticipato per la data del trentuno di eh maggio ma non succede nulla si incassa la cedola si va avanti ad agosto a quel punto la barriera per il rimborso anticipato è al novanta cinque per cento prezzo del certificato novantanove euro diamo un'occhiata all'analisi di scenario ventuno per cento di rendimento a scadenza fino a meno ventuno per cento ma c'è un aspetto che fa sì che questo certificato meriti di essere guardato se il titolo Air France che è il peggiore dovesse perdere il trenta per cento il certificato a scadenza ci farà perdere il sedici per cento è come se ci fosse una sorta di meccanismo airbag che ti fa perdere di meno perché perché le scedole incondizionate vengono pagate a prescindere quindi quello è un flusso cetolare che fungerà da cuscinetto alle perdite quindi guardiamole in quest'ottica cedole incondizionate che rappresenteranno un rendimento ma che potranno diventare anche una sorta di difesa nel caso in cui si dovesse andare a finire sotto barriera sul peggiore quindi questa è la eh diciamo ciò che accade all'interno di questo certificato allora ci sono un paio di domande Luca eh anzi tre in realtà anzi quattro allora la prima queste cedole non compensano eventuali minusvalenze ci chiede Michele in realtà sì Michele per fortuna anche le cedole incondizionate compensano perché è vero che le cedole sono incondizionate ma la struttura è a capitale protetto condizionato quindi è capace è possibile che tu incassi anzi è certo che incasserai le cedole quello che non è detto e che ti rimborserà tutto il capitale pertanto in questo caso abbiamo una reddito diverso cioè vuol dire che anche queste cedole compensa si può rivedere il percorso sul su per l'iscrizione naturalmente sì si va all'interno delle tabelle prodotti c'è la tabella anzi in realtà è in home page direttamente c'è la sezione dedicata ai certificati di PMP Paripa in home page si atterra all'interno della sezione e poi c'è il percorso per l'iscrizione quindi è dal sito di certificati e derivati c'è in home page proprio la tabella dove lo vedete c'è proprio un bel marchio c'è c'è il logo e tutte le analisi legate ai certificati di PMP Paripa e da lì atterrate all'interno di questa pagina dove trovate poi la shortlist sì Luca abbiamo fatto anche il menu cash collect sopra che magari può essere interessante far vedere così Pierpaolo possiamo far vedere anche la pagina nella sua interezza no? Esatto esattamente abbiamo creato insieme questa pagina che si chiama cash collect quindi cliccando su cash collect sulla barra arancione sopra si arriva qui dove ci sono tutte le nostre ultime missioni piuttosto che tutti i nostri nostri prodotti e poi sulla sinistra se non sbaglio Pierpaolo c'è il bottone con la shortlist esatto servizio shortlist iscrizione gratuita segnale attuale e l'archivio dei segnali quindi ad esempio se voleste vedere che cosa abbiamo fatto nelle precedenti settimane quindi segnali delle precedenti settimane li trovate tutti qui con il prezzo medio di carico cioè quando abbiamo lanciato noi il segnale il prezzo rettificato per eventuali cedole incassate e lo stato quindi ad esempio quello di febbraio che era questo certificato maxi coupon è andato in rimborso anticipato così come quello di gennaio quindi anche un po' un po' una sorta di portafoglio no mettiamola così di di segnali che abbiamo lanciato in questo in questo periodo quindi ci si arriva da qui grazie a te Luca per avermi dato modo anche di vedere la sezione dei cash collect che tra l'altro è anche un po' per chi non è cedla è un modo per vedere tutti i certificati e il prezzo quindi prezzo lettera cento otto e quarantacinque la situazione attuale e allora Luca ti lascio con l'ultima domanda che a questo punto immagino a cui vorrei rispondere tu che la domanda di massimo e poi ti riassegno anche il controllo del monitor così se vuoi far vedere i contatti e chiudiamo infatti è una domanda sicuramente utile perché noi Pierpaolo in questi così questi incontri andiamo sull'ISIN specifico ne facciamo vedere due tre magari con tanta dimestichezza però ovviamente non tutti ci sono sopra questi siti tutti i giorni e quindi ci sta che ovviamente qualcuno abbia questo tipo di anche di necessità di capire come fare e come trovare quindi le nostre emissioni prodotti di cui vi abbiamo parlato oppure le nuove che verranno ci sono di fatto due modi o andare nel sito di certificati derivati che su cui Pierpaolo ha lavorato finora e sul sito nel menu principale nella barra arancione c'è proprio la voce cash collect e questa è una pagina che abbiamo fatto insieme appunto BMP insieme a certificati derivati e lì troverete tutte le nostre tutti i nostri prodotti di tipo cash collect ovviamente e anche ogni volta che c'è una nuova emissione viene pubblicata c'è proprio una voce nuove emissioni dove trovate tutti i prodotti più recenti che abbiamo emesso l'alternativa invece è quella di andare sul nostro sito che vi sto facendo vedere proprio ora si chiama investimenti.bmpparibas.it lo vedete qui in alto magari in piccolino comunque bmpparibas.it quindi con la doppia p qui all'interno in home page si vedono proprio l'evento di oggi quindi anche per vedere i prossimi eventi potete fare l'affidamento qui e appunto la slide dedicata alla nuova emissione cliccando alla slide che è tra l'altro anche raggiungibile all'interno del menu certificati di investimento cash collect certificate se cliccassi qui vedrete che arrivo esattamente nello stesso posto qui la domanda di Massimo è anche relativa al materiale qui possiamo scaricare la brochure dell'ultima emissione che vi facevo vedere anche prima quando andassiamo avanti a vedere l'asterisco quindi qui trovate tutte le caratteristiche dell'emissione dei prodotti come funziona quindi una descrizione più dettagliata di come funzionano i prodotti e poi ovviamente la tabella con tutti i prodotti che abbiamo visto insieme oltre alla brochure ovviamente anche qui trovate la lista dei prodotti questi sono quelli nuovi che abbiamo visto appunto quando abbiamo presentato la gamma all'interno potete trovare tutti i valori anche qui un po come faceva vedere Pierpaolo prima i basket e chi è il worst of del momento la prossima data di valutazione voglio anche ingrandire per far vedere meglio la prossima data di valutazione il premio alla prossima data di valutazione e la condizione quindi qui la condizione è che plug power and phase energy solar edge siano pari o superiori alla barriera e poi vi dà anche il riferimento questa è la distanza il 53% alla distanza della barriera 7,64 è la performance dal valore iniziale questi questi valori sono calcolati sulla base del worst of anche qui dire il peggiore è sempre ovviamente relativo perché il peggiore sta facendo più 7 quindi in realtà questo basket a tutti i sottostanti che stanno guadagnando terreno rispetto agli strike chi sta guadagnando di meno in questo momento è plug power che comunque sta un più 7 rispetto al valore iniziale e qui trovate la scadenza e anche il prezzo di acquisto anche questo ho aggiornato in tempo reale clic quindi possiamo trovare tutta la lista e quindi fare un paragone poi quando ci interessa un prodotto nello specifico possiamo anche cliccare sopra il prodotto specifico e si entra all'interno della pagina specifica di nuovo denaro lettera per vedere i prezzi del prodotto piuttosto che tutte le caratteristiche principali del prodotto il calendario con date di valutazione quindi parlavamo prima del primo trimestre ad agosto e il secondo trimestre a novembre in particolare 18 agosto e 18 novembre in questo caso con la data di pagamento e tutte le condizioni che abbiamo ben visto prima infine trovate anche a fondo pagina appunto i valori di riferimento con valori di strike valori di barriera valore attuale e le distanze distanza barriera e performance da valore iniziale il sito vi indica anche chi è il worst off quindi come dicevamo prima plug power in questo momento è il worst off di questo basket perché vedete che le altre due azioni hanno guadagnato circa il 17 per cento plug power solo tra virgolette visto che l'abbiamo messi venerdì il 7,64 per cento guarda Luca devo dire Luca che questo è veramente uno dei siti in assoluto insomma tanto lo sai conosciamo tutto il mercato da sempre da sempre ma avete continuato ad integrare ad aggiornarlo veramente un sito perfetto sotto questo punto di vista dal mio perché comunque ti dà tutte le informazioni anche la profondità eh sui sottostanti quant'è la distanza quindi quelle informazioni ci hai fatto vedere prima quindi bravi veramente complimenti ti ringrazio per Paolo e do anche così visto che abbiamo fatto un po' tardi do una preview diciamo a chi ci ascolta nel senso che per noi il sito è due cose io volevo sottolineare di BMP una grazie per i complimenti sul sito perché è un investimento continuo che facciamo e non ti nascondo che stiamo lavorando a un restyling passami il termine completo di tutto il sito che è che arriverà quest'anno per cui avremo un sito che sarà più responsive più utilizzabile dal dal telefono cellulare dal dall'ipad o da qualsiasi dispositivo per cui anche qui miglioreremo ancora se così possibile e poi l'altra cosa che non abbiamo evidenziato per Paolo se posso è l'emittente BMP Paribas in qualità di rischio di credito quindi per dire che BMP Paribas ha un rating sul mercato tra gli emittenti tra i più solidi tra gli emittenti in Italia tra i più solidi ed è un aspetto che forse va anche qualche volta ricordato perché nel momento in cui si acquistano questi prodotti ci si espone ovviamente al rischio rischio credito dell'emittente come quando si compra un'obbligazione o altri strumenti finanziari per cui ecco una cosa che dovete sapere che quando si compra tecnicamente carta BMP Paribas passatemi il termine si compra anche una carta che ha un merito creditizio importante sul mercato e questa è sicuramente una cosa che può dare una garanzia ulteriore insomma gli investitori assolutamente fatto bene hai fatto bene Luca a ricordare anche questo va bene allora a questo punto abbiamo dato anche tutte le ultime informazioni io volevo solo ribadire quanto perché le domande erano su come ci si arrivava io ho detto dall'home page di certificati derivati c'è un pulsantone in realtà è nella barra in alto proprio c'è scritto cash collect adesso non ci ritorno ma comunque lo potete trovare dove c'è nel menu cash collect è un po' più facile arrivarci da lì ecco e si atterra nella nella sezione non l'avevo diciamo non volevo andare in home page ma comunque ecco magari ci sta andando Luca lo può lo può far direttamente ok va beh adesso il sito troppe troppe troppi troppi cati va bene ecco lì dovrebbe essere dovremmo esserci sì sì si carica ecco lì in alto cash collect perfetto cliccando cash collect e questo è il secondo modo di trovare le nostre emissioni come vedete ultima emissione e qui siamo già appena si atterra e infatti stiamo spiegando anche qui si spiegano i double maxi li trovate tutti eccoli qua oppure cash collect in generale trovate la tabella con tutti i nostri prodotti quindi airbag premio fisso maxi ISG e così via e poi il servizio di shortlist per iscriversi a quello che appunto faceva vedere prima Pierpaolo basta andare su iscrizione gratuita ed è la cosa più facile eccolo qua esce il pop up scusa sto prendendo le redini del però è stato benissimo sì 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 no è meglio la pagina che mi fai tu prima era segnale attuale e iscrizione gratuita cliccando succede praticamente la stessa cosa quindi eccoci qua benissimo grazie Luca naturalmente va bene allora a questo punto ci possiamo salutare eh abbiamo fatto un po' più tardi ma insomma avevamo veramente tante cose da dirci e quindi ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato fino alla fine ricordiamo naturalmente il webinar è registrato quindi poi chi avesse avuto impegni qualcuno aveva salutato che doveva andare al lavoro e quindi è giusto insomma potrà rivedere Luca grazie come sempre e alla prossima grazie davvero buona serata a tutti buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.